Un'ex villa costruita abusivamente da un'organizzazione malavitosa, la sua scoperta, il suo sequestro e la sua demolizione. Di quella che era una casa di lusso rimane solamente la muraglia di Cinta e la ringhiera con un cancello, uno scorcio di Brescia via Ghislandi, zona al sud della città, a fianco dei capannoni della zona industriale. Era il 2003. A dieci anni dalla confisca di questo terreno il bene non è tornato alla comunità come denuncia Scarlata, candidato alle prossime amministrative con la lista Brescia Solidale Libertaria e membro del comitato Peppino Impastato. Come dice la legge i beni confiscati dalla mafia possono essere utilizzati dallo Stato, se però lo Stato non ritiene che non siano idonei per la propria attività vengono assegnati all'ente comunale, quello che è successo a questo terreno. A quel punto il comune può deciderlo se usarlo direttamente oppure se destinarlo ad altre associazioni o cooperative che lo possono usare a scopi sociali. In questo caso il terreno è diventato una sorta di bosco incolto, abbandonato a se stesso a causa dell'inquinamento da PCB. Brescia è la terza città del nord Italia per numero di beni confiscati e la criminalità organizzata. Alcuni di questi sono stati riconsegnati alla città e dati in gestione ad associazioni cooperative, altri sono già stati invece destinati, ma non questo. L'attuale giunta ha deciso che fino alle elezioni di questo terreno non se ne fa niente, in buona sostanza se ne è lavata le mani, sta prendendo tempo. Questo è un fatto gravissimo, è un fatto gravissimo perché significa che non si vuole far partire la bonifica e significa anche che un bene confiscato alla mafia non torna alla società civile. Quando un bene confiscato alla mafia non torna alla società civile significa che la società e lo Stato in generale hanno perso una battaglia contro la mafia, tant'è che quando la mafia perde un bene, questo è successo in tante zone d'Italia, piuttosto che vederlo riutilizzato a scopi sociali lo distrugge. L'esempio della cittadella della scienza di Napoli incendiata da più parti è ancora davanti agli occhi di tutti. Inoltre un danno a cui si aggiunge un altro danno, a notte tempo qualcuno è entrato nell'area per scaricare dei sacconi neri contenenti con tutta probabilità rifiuti tossici come lana di vetro, atto già denunciato ai carabinieri del nucleo operativo ecologico. La richiesta diventa così quella di un recupero dell'area. Quando era stato confiscato si impensava di farne dell'agricoltura biologica e sarebbe veramente un'ottima cosa visto che è un terreno agricolo. Potrebbe essere per esempio assegnato ad una cooperativa che lo utilizza. Cooperative dove lavorano o ex disoccupati, ex tossicodipendenti, persone che hanno malattie mentali e che in queste cooperative trovano la possibilità di un lavoro. Ecco dove sta lo scopo sociale di queste cooperative. Qui si potrebbe fare un lavoro simile. È chiaro che fino a quando il terreno non è bonificato non è assolutamente possibile, questo è ovvio.